...dell'attacco, kit medico, vabbè ce ne spariamo uno in vena, così raccogliamo l'altro, no, la K, ce la teniamo, ah c'erano comunque mele, abbiamo anche il lusso di rimanere sfamati con Rider, aia, scusate eh, prima che ci sia casino, no, cazzo ma se, vabbè, Mortal Kombat time, ok, sto qua è morto, si è spezzato il braccio nel, nelle sbarre, vabbè, qua mi sa che arriveranno pesanti attacchi se non mi muovo, Oh, zombie ricchia in prigione, chiudiamoci le porte, anche se sto andando dalla parte sbagliata, infatti, qui, troppo brutta e oscura, Oh, no, 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 no Eh, Dead Island No, a mio, ragazzi, chiudiamo le porte, scusate se vi ho disturbato, ma è pieno ragazzi, lì Ho paura che tra poco Cioè non capisco perché sono quasi a secco di munizioni Dato che poco fa sembrava di essere un Serious Sam Vabbè che mira eh Possiamo anche tornare a un'arma da taglio ogni tanto Sì direi che è il caso Ce la facciamo? Fuori uno Attaccare all'impazzata in questo gioco non è la mia scelta Se vi lanciate bene gli attacchi Cazzo ma questi sono proprio tosti Vabbè questi qua sono i più scelti perché sono i Marines zombie Ok C'è gente? Sì 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 c'è gente Ok facciamo un punto della... serve serve per forza Aspetta facciamo una bella cosa avete già capito eh ragazzi Dai venitemi a trovare Olè Grande ovviamente sfruttato solo su uno Ne arrivano altri rider In cassa A te ti attacco l'impazzata Che macello ragazzi Ancora gente che mangia Ormai è tardi eh Cazzo Cazzo Lì ce n'è uno grosso Muoviti Rainer Fai fuori questi Che roba di merda Vabbè Ascolta eh Eh lo so lo so non è bello Oh steso così proprio Schiacciamo la testa a questo Avremmo già fatto fuori penso 2000 zombie dentro questo posto Kit medico Come vedete il gioco Cioè il DLC lo sto facendo molto alla veloce Vi consiglio di far... Oh champagne Grande Dai rider ci facciamo una bella brindata quando finiremo Intanto il nastro ci racconta quello che è successo Non facendoci vedere dov'è l'obiettivo Bello Anch'io vorrei ammalarmi Eh beh Classica fine registrazione Sempre dove viene sbrannato Quello che registra Vabbè abbiamo letto tutti Possiamo anche procedere Eh sì Questo tipo Questo posto sembra Tutto uguale Vero ragazzi Siamo leggermente al buio Sì Ma no Ma scusate Sarebbe dovuto essere una trappola questa Facciamoli fuori tutti Ci rendono un lavoro facile Che si mettono anche in fila È ricarica Oh Bravo È rimasto lui Speriamo l'ultimo La torcia sta... Sta finendo Quindi c'è come rimuoverci Munizioni per doppietta Utilissimo Allora Questa qua è una camera Sembra di ospedale Eh Lo è Mi sa tanto Merendina extra Mmm Caro diabete di Rider White Mmm Caro dietologo Di Rider White Ciao Sono dietro di te Assassino Ma non se ne accorge Ma che assassino è? Fatti insultare La Rider Per notare il realismo Nel gioco Riguardo i colpi in testa Oh Vabbè Ce l'abbiamo fatta Non dimentichiamo... Vabbè Non è il caso Di andare in giro Con l'attacca panni Magari Ehm Va bene Come... Come si apre qua? C'è una chiave? No Lui non ha una chiave Mmm Interessante Proviamo ad andare indietro Dove dice la mappa Bisogna tornare qua Di nuovo Per prendere... Ah Dettagli Pro Ok Ok Perfetto Dai Sembra che questo DLC Abbia una fine E voi anche possiate vederla Perché ormai ce la stiamo tirando un po' da tanto Ecco Ehm Da questa parte Non andiamo a perderci in zone inesplorate Chiudiamo tutte le porte dietro Come al solito Oh Scatata la melodia di Mozart Qua dentro Eccola E lei L'abbiamo trovata Diamogli la medicina Eh si Si vede Che sta meglio Un bel colorito E dei begli occhi Soprattutto Perfetto Ma perché allearsi tra umani Quando ci si può scannare Giusto? Apriamo la porta Dove sono? Andiamogli a salutare Eccoli là Lì c'è già il primo It's battlefield time Ci vorrebbe anche qua una bella patch Per risolvere Aia Ma Sto fucile ha il mirino Ma che mirino è? Non è È sempre quello metallico Ma con Degli adornamenti in più Oh Grande 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 precisione Però Vabbè Tanto sono uguali Finora ci siamo presi Un proiettile solo Mi sembra troppo poco Ecco Grande Questo Veramente Il più forte Del gruppo Ok Chiudiamoci le porte Adesso non puoi più scappare Mi è rimasto Allora Cioè Loro Col colpo in testa Vanno giù Gli zombie no Vabbè ma Ci vorrebbe un po' più di realismo In questi RPG Che mira Tra tutti proprio Sono in 40 Non riescono a tirarmi giù Compli merda Allora Vediamo Ma cosa fanno? Ah si stanno scannando Quegli zombie Grandi Grandi Dai Io mi starò a vedere Tutta la scena Bello Vediamo come te la cagli Will Smith Vabbè Magari questo che Lo vedo un po' agitarsi Perché ho la vaga impressione Che tu non ti riesca a liberare Vero? No ma Cosa sta succedendo? Non lo state spiegando? È un bacio evitato Questo Ma che zombie Cioè Tra tutti e due Proprio Dovrei farlo vedere a Doug Questo Ma cos'è? Guardateli Sono troppo ridicoli Oh Grande zombie Ebbè Ci voleva Tanto A fare questa mossa Emily Deve essere sicura Ok Quindi abbiamo Messo Emily Al sicuro Da questo Branco di incapaci Ok Dice che Non ce ne saranno Altri Beh Questo pezzo Non è stato Impegnativo Speriamo Di uscire Presto Da questa Prigione De merda Continuiamo Oh Merda Porca E Oh A volte Questi zombie O sono Rincoglioniti O hanno Dei riflessi Pari a Marines Non lo so Bene Continuiamo Qualcosa mi dice Che dietro questa Porta Serviranno Delle belle Pallottole Ed è così No Scusate Ok Ma chi sono Questi Le mummie Della prigione È più facile Mirare senza Tasto destro Che con il destro Ragazzi Ma perché ho il presentimento Che ce ne sia uno qua Portiamogli via L'orecchio Dai che ce la fai Grande Ok Ci Prendiamo Più munizioni possibili Perché qua sento Sentite che affanno Questi zombie Ma dai Lasciamo stare È la fase 2 Della situazione Prima con il nero Ok Ok Quella gli è esplosa La testa Ma non se ne è accorto Grande Che deve esultare Prima di attaccarmi È questo Oh Un'intelligente Cosa ho visto Là in fondo Raga La vediamo Di farlo esplodere Oh Avremmo dovuto Farlo dall'inizio Così ci Risparmiavamo I proiettili Per questi zombie Martello 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 Non so quanto sia utile Preferiamo Per ora Dato che siamo Da soli Solo i fucili Dai Allora Il solito Gigante Buono Che non si accorge Di niente Ma teoricamente Non dovrebbero Metterli A fare Difficoltà Insieme alle mandrie No eh Allora qua Che posto è Una sala pulita Finalmente Senza nessuno Lasciamo No Chiudiamo la porta Questi posti Non mi piacciono Faccio un attimino L'ingordo Ecco Infatti Non c'è niente Ok Stanza vuota Grande Rider Se sei furbo Qua ti barricchi per Qua ti barricchi per Qua ti barricchi per Qua ti barricchi per Qua ti barricchi per